Il movimento dei Forconi torna a farsi sentire con una nuova iniziativa in programma. Ma siamo stati costretti da una classe politica purtroppo, perché noi da due anni abbiamo ringorso tutte quelle che erano le loro prospettive, le loro proposte e a oggi non abbiamo quantificato nessun risultato, né a livello regionale né a livello nazionale. Si è deciso in unione con altri movimenti in tutto il territorio nazionale, perché ormai non è più la protesta di categoria o la protesta di un settore. Qua c'è una nazione che sta sprofondando e ci sono tutti coinvolti, a partire dal pensionato a finire a quel povero sventurato che sta sulla carrozzina. Gli studenti, i giovani, non c'è prospettiva per nessuno, è ancora assistere allo scempio della classe politica, i teatrini, delle loro divisioni. Ormai siamo stanchi, non ne possiamo più, vogliamo delle risposte serie, vogliamo delle risposte concrete e noi il giorno 8 scenderemo nelle strade proprio per chiedere questo alla classe politica. Come si articolerà la vostra protesta? La nostra protesta si articolerà, intanto è una protesta a livello nazionale che parte da Pordenone e arriva a Lampedusa. È una protesta dove abbiamo imposto a tutti, compresi noi per primi, che non ci sarà nessuna bandiera da parte di nessuno nei presidi. È articolata nel modo che i trasportatori hanno aderito al fermo. Ci sarà un fermo delle merci in tutto il territorio nazionale. Qui vorrei fare un po' con un appuntino. Inutile creare all'inutile allarmismi e cose conti. Il mangiare ci sarà per tutti, saranno garantiti i genere di prima necessità. È chiaro che un po' di disagio si avrà nel territorio. Non ci sarà sicuramente da parte nostra l'accanimento su chi va a lavorare o su chi ancora crede che questo sistema gli possa garantire qualche cosa. Le strade saranno rallentate, le arterie principali della Sicilia. Non ci può essere un blocco capillare come qualcuno vorrebbe fare in dentro, vorrebbe fare capire di paralizzare completamente tutto. Come è stato già due anni fa, ci saranno le vie di fuga, ci saranno un servizio garantito dalle forze dell'ordine. Sarà una protesta civile come è sempre stata fatta. Qual è il vostro appello? Il nostro appello è intanto alla sensibilità della gente. Intanto ci rivolgiamo nuovamente al popolo perché questa è la protesta del popolo, non è la protesta né dei forconi, nemmeno di altre categorie che hanno aderito. Allora quello che deve prevalere è il buon senso e la civiltà davanti a una protesta del genere. Perché noi sappiamo benissimo che ci saranno, ci potranno essere, proveranno a esserci infiltrati, proveranno a esserci gente che avranno scopi personali per degenerare o per macchiare quello che si sta facendo. Davanti a tutto questo deve essere il buon senso a prevalere.